Lui è il numero uno tra i calciatori, l'uomo più invidiato del mondo, lei è la donna che tutte vorrebbero essere. Cristiano Ronaldo è bello, famoso, ricco e con un talento eccezionale. Georgina Rodriguez è la sua compagna, l'unica capace di far capitolare sul serio il portoghese, grazie alla sua semplicità, naturalezza e dolcezza. 24 anni compiuti lo scorso gennaio, Argentina, nata a Buenos Aires ma cresciuta in Spagna. Da ballerina e modella a commessa di una boutique di lusso a Madrid, la bella Mora ha rapito il cuore di CR7 a un party nel 2016 e da allora i due non si sono più lasciati. Lei lo segue ovunque e si occupa di tutti i figli del neoacquisto juventino, ben quattro. Ronaldo Junior ha quasi otto anni, vissuto sempre con papà che si è dedicato in tutto per tutto a lui. Poi ci sono i gemelli, Eva e Matteo, che hanno compiuto un anno a giugno. E infine, ma solo per il momento, visto che il portoghese ha dichiarato di volerne sette, c'è lei, Alana, frutto proprio dell'amore con Georgina, nata a novembre del 2017. Una famiglia tanto allargata ma che fa anche discutere perché dei primi tre figli non si conoscono le mamme. Si parla di madri surrogate ma il mistero resta insoluto. Comunque una famiglia unita che a Torino si trasferirà col benestare di nonna Maria Dolores, mamma 64enne che non lascia mai il figlio d'oro. Lei la prima a puntare e credere fortemente su quel talento incommensurabile di nome Cristiano Ronaldo.